Buongiorno, ben ritrovati. Questa è la Rassegna Stampa. Occhio ai giornali sul canale 17 di Fano TV in diretta alle 7.30. Partiamo dal Santo del Giorno perché oggi la Chiesa Cattolica ricorda San Luca Evangelista, figlio di Pagani. Luca appartiene alla seconda generazione cristiana, compagno e collaboratore di San Paolo che lo chiama il caro medico e soprattutto l'autore del Terzo Vangelo e degli Atti degli Apostoli. Il sole sorto alle 7.25, tramonterà alle 18.21. Il tempo tra sole nuvole, acquazzoni temporali, ci sono temperature sopra la media e punte di oltre 25 gradi. Questa è l'Italia che si presenta così con alcune piogge sulle isole, sul medio adriatico, ad ovest delle Alpi. Questa è la fotografia dell'Italia nella giornata di oggi. Questa è l'Italia a mezzogiorno, alle 18.00 e a mezzanotte. Ma il bollettino della protezione civile delle Marche per questa giornata prevede al mattino una precipitazione isolate, anche caratteri di rovescio di temporale nelle zone costiere, poi in collina e nelle zone interne con progressivo esaurimento dei fenomeni. Per la giornata di domani, venerdì, avremo cielo sereno o poco nuvoloso, con temperature massime stazionarie oppure in lieve diminuzione. E sabato, cielo sereno o poco nuvoloso, con venti di brezza tesa e vento moderato lungo la costa. Probabile peggioramento per la seconda parte di domenica e per la giornata di lunedì, a cui seguirà un probabile periodo di tempo stabile e soleggiato. E a proposito di tempo, guardate che splendida fotografia ci ha inviato Enrico poco fa da Carpegna, dalla montagna andando guardando verso il mare. Infatti il sole, vedete, sorge sul mare in fondo a sinistra del vostro teleschermo. Questa è l'immagine che ci fa vedere come le foschie e i banchi di nebbia sono presenti nei fondovalle e sopra invece questa splendida giornata, questo splendido sole che sta per sorgere. Una bella immagine. Grazie Enrico per avercela inviata. Adesso andiamo a leggere i giornali velocemente. Allora, ripulito il cap, questa è l'edizione di Pesaro, l'apertura del resto del Carlino. Maxi bottino di profumi rubati a pantano. Il titolare dice ti fanno diventare intollerante. È stato ripulito tutto, ma soprattutto hanno preso le essenze più, come dire, costose. Hanno avuto proprio non solo l'occhio lungo, ma anche il naso fino. Autotrasportatori in rivolta. Una categoria sull'orlo di una crisi di nervi è quella degli autotrasportatori. Il caro gasolio ci fa chiudere, dicono i camionisti. Viaggio tra i camionisti arrabbiati. Mille euro in più di costi, senza possibilità di recuperare niente. L'associazione di categoria, la CNA, dice il governo deve intervenire. Le pagine interne. Banda del tombino, colpo grosso al cap, i ladri, forse quattro, spaccano la vetrata d'ingresso e fanno razzia dei profumi più costosi. I carabinieri hanno svolto i rilievi. Il sospetto dei titolari è su due masche di piccola corporatura, Etnia Rom, che lunedì scorso sono entrati in negozio, hanno visionato senza però comprare nulla e se ne sono andati. Praticamente hanno fatto un sopralluogo. Tutto è successo in dieci minuti, riusciti a fuggire con tutto quello che serve per, prima che sul posto arrivassero la vigilanza e i carabinieri. Poi sotto la notizia di un incidente, anzi due incidenti. Intanto un testa-coda in autostrada, in A14, paura per un bambino. È successo ieri pomeriggio intorno alle 17.30, tra Fano e Pesaro, nei pressi della Galleria di Novilara. È una Volkswagen Passat, all'interno c'era una famiglia, genitore e un bambino piccolo, ha fatto un testa-coda. E poi un 83enne che invece muore dopo uno scontro lungo la strada Contessa. Queste sono le notizie sulle pagine interne. La quella di Fano invece, telecamere fuori dalla scuola Corridoni, rientra nel progetto di rinnovo dei punti luce pubblici. Aset installerà due occhi elettronici per riprendere il vicino parco. Sapete che all'esterno della scuola elementare Corridoni a Fano c'è un parco, soprattutto in estate, utilizzato come dormitorio da alcuni senza tetto. Ebbene, adesso lì ci sarà una telecamera all'uscita della scuola Corridoni che servirà anche per video sorvegliare questo pezzo di terra dove appunto d'estate viene frequentato, non solo da chi non ha un letto dove dormire, ma insomma anche da altra gente. Per il suo pieno utilizzo l'impianto dovrà essere collegato poi alla Polizia Municipale. Andiamo sull'altra pagina del resto del Carlino. affitti alti, il Comune intervenga, la moria di attività in centro storico desta preoccupazione, Confesercenti apra un confronto che dice con proprietari e negozianti. Poi ragazzi in Bosnia per studiare la guerra e le sue conseguenze. Sono tornati ieri notte, stanchi ma carichi di esperienza. I ragazzi delle classi quarta B del Liceo delle Scienze Umane e terza A e terza B del Liceo Artistico Nolfi a Polloni dal ritorno da questo progetto Bosnia, un paese al di là del mare proposto dalla Onlus Lutva. Sono andati a visitare appunto tutti i paesi coinvolti nella guerra. Deutsche Bank sta per terminare invece l'avventura fanese, fissata per il 23 novembre la chiusura della filiale Lungo Corso Matteotti. Aveva aperto i battenti nel 2012. A Terra Roveresca invece c'è stato un sopraluogo dell'architetto Gabriele Polverari con Bruno Branchini dentro una chiesetta dedicata alla martire Filomena. Un gioiello architettonico che però adesso rischia di crollare. L'esperto dice anche ha una struttura particolare molto rara ed è davvero un peccato che vada deteriorandosi in questo modo. Merita di essere conservato un simile patrimonio. Negli anni 60 si celebravano la messa, poi è stata chiusa e utilizzata come magazzino. Però è una chiesa privata, non è una chiesa diocesana. E adesso invece il Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico che apre con l'edizione di Pesaro con Via Gagarin dove c'è dell'asfalto. Multiservizi chiede i danni, avvallamento nel tratto stradale dopo i lavori. Marche Multiservizi, dice l'azienda, risarcisca. Mentre centropagina lo sport. Ieri c'è stato il turno infrasettimanale, una giornata nera per Vis e Fano. I Granata vanno K.O. a Teramo. Non basta il gol di Ferrante nella ripresa. Biancorossi invece in vantaggio. Poi si scatena Germinale. Il risultato finale è 1-2. E dicevamo quindi della Serie C che ha giocato ieri, ma lo vedremo alla fine della nostra rassegna stampa. Adesso andiamo sulle altre pagine. La casa di Oz a canestro con il Baskin. Siamo a Vallefoglia. A novembre prima sfida in campionato. Poi sotto la giunta di Vallefoglia ha approvato il piano asfaltature da 40 mila euro che coinvolgerà via Mazzini e il piazzale del Pala Dionigi. L'annuncio del sindaco Palmiro Ucchielli. E poi ancora Urbino. Fusione Sasso Corvaro auditore. Il 2 dicembre i cittadini saranno chiamati al voto. Via libera definitivo in consiglio regionale. Il sindaco Zito dice così daremo più servizi. Si darebbe origine a un comune di oltre 5 mila residenti con risparmio di circa 200 mila euro. La pagina di Fano. Tari e Acqua con lo sconto. Beneficiate 33 aziende locali con 55 mila euro sostegno a chi ha avuto assunto giovani e agli hotel aperti in bassa stagione. Altre riduzioni a chi non spreca. Nessuna richiesta invece dai locali con slot e videopoker. Museo della Flaminia. Una minaccia ingiusta. Marcheggiani a tombare sul rivedere la convenzione. Insomma si parla di una questione tutta da leggere sul giornale. rimborso IMS. 14 segnalazioni e 8 email a vuoto. Poi la risposta all'odissea di un ex dipendente ministeriale. 6 mesi d'attesa e ieri sono arrivate le scuse dell'istituto. Dalla Valle del Metauro la fontana depredata va in malora. Siamo a Fossombrone. Il professor Savelli richiama l'amministrazione a intervenire con un impegno da 10 mila euro per mettere in sicurezza. Il manufatto settecentesco basterebbe l'1,1 per cento dell'avanzo di bilancio. Ancora dalle pagine del Corriere Adriatico. Questa volta dalla Valle del Cesano. Davide, condottiero sul maxischermo. Lui ringrazia con un video messaggio che vedremo tra pochissimo al termine della rassegna stampa. Davide Mazzanti di Marotta che sta guidando la nazionale di volley femminile, orgoglioso di vivere con voi questo momento. Domani tutti al Palace dei suoi esordi, dove lui ha cominciato. Il coach della nazionale sta guidando la squadra in una cavalcata mondiale. Dopo gli asfalti ripristinate le strisce pedonali, segnalato il pericolo davanti alla scuola a terra roveresche, chiesti a gran voce anche i dissuasori di velocità. E ancora con la truffa, qui siamo a Mondolfo, della crema, le sfila la collana dal collo. Falsa promotrice di cosmetici, entra in casa di una pensionata e la deruba. È un'anziana che vive da sola in casa ed è stata derubata da una finta venditrice di prodotti cosmetici. È caduto l'altro giorno alla periferia di Mondolfo. La pensionata disperata, appena si è resa conto di quello che le era successo, in lacrime, è andata a confidarsi con le amiche. Ma ormai era troppo tardi. E adesso invece guardate questa fotografia. Giù l'insegna dell'Ipercop ha suscitato parecchia curiosità. Ieri mattina la gru che armeggiava con l'insegna dell'Ipercop, nella foto di Lucatoni, che troneggia sulla cima delle vele, ormai parte integrante dello skyline pesarese. Un restyling che insegna da rinnovare, reso necessario dall'usura del tempo e dagli agenti atmosferici. Insomma, andava cambiata questa scritta. Però ieri questa grande gru che stava armeggiando, insomma, ha destato curiosità. Sui social ormai si sa, viaggia di tutto. A Novi Lara, caos, parcheggi, ma con soluzione. Si valuta la viabilità alternativa e l'area di sosta per il ristorante. E nella notte ancora la cronaca, questa volta dal Corriere, razzia alla profumeria Cap. I ladri scegliono le essenze più costose. Lo sconforto del titolare del negozio di Via Faggio, che dice un duro colpo, non è nemmeno la prima volta. E guardate come hanno lasciato gli scaffali di questa profumeria, praticamente quasi vuoti. Hanno lasciato lì solo quelli che costavano evidentemente poco. Ancora dal Corriere Adriatico, casa circondariale di Villa Fastigi, carcere, Marche Nord, l'azienda ospedaliera, insieme collaborano ad un cuore per donne. Il progetto, nato un anno fa, coinvolge non solo le detenute e si rivolge alle pazienti operate al seno. Poi Armanda Rossi, la direttrice del carcere, elenca le criticità a partire dalle infiltrazioni d'acqua all'interno del carcere e parla anche di problemi strutturali, appunto, in questo carcere che spesso è sovraffollato. Andiamo infine a vedere le due pagine di Sport, velocemente per dire allora che la Vis sbatte su Germinale, passa in vantaggio con una rovesciata di dolcesi, ma poi il Pordenone rimonte a lunga in vetta. Fatale la doppietta dell'ex del Fano che entra nella ripresa, pareggia dopo 30 secondi e si ripete al 75esimo. Il risultato finale è Vis-Pesaro 1-Pordenone 2, quindi la Vis che perde al Benelli. Mentre il Fano impegnato a Teramo perde 2-1. Il Fano si sveglia tardi, partenza al rallenti dei Granata, colpiti e affondati dal Teramo nel turno infrastrittimanale. Non basta un secondo tempo generoso, il gol segnato da Ferrante per evitare la sconfitta. Sin qui i giornali, ma come vi dicevo ci salutiamo con il messaggio che ieri Mazzanti, l'allenatore della scuola di volley, ha lanciato attraverso il social network dove saluta Maroto, dove ringrazia il sindaco Barbieri. Lo guardiamo, il sindaco Barbieri che tra l'altro sarà nostro ospite qui dopo il telegiornale lunedì sera a Primo Cittadino. Dicevo guardiamo e ascoltiamo questo messaggio, ci salutiamo qui e facciamo tutto il tifo per la nazionale. Grazie, arrivederci. Ciao Marota, so che il sindaco Barbieri con i ragazzi della giunta hanno organizzato per venerdì mattina al palazzetto un massischermo per guardare la semifinale Italia-Cina. Devo dire che non ho le parole, uno per ringraziare il sindaco e i ragazzi della giunta e due per condividere con voi questo momento importante. È una cosa che mi inorgolisce tantissimo condividere con voi questa gara, questo momento perché credo che l'emozione che la squadra sta regalando un po' a tutti i tifosi, ma soprattutto l'affetto che mi arriva da Marotta sia una cosa incredibile, è una cosa che mi riempie di gioia e che mi dà ancora più spinta a fare quello che sto facendo. So che al palazzetto saranno presenti anche ragazzi della scuola, della campus, quindi volevo così solo darvi un piccolo messaggio. Quando ho cominciato in quel palazzetto a giocare a pallavolo non avrei mai pensato di poter vivere un'esperienza così. Nella mia carriera ho capito che molto spesso passiamo un po' troppo tempo a voler assomigliare a qualcuno per fare qualcosa di importante o di speciale per noi. Invece nella mia vita ho capito che la cosa più importante è cercare quelle che sono le nostre caratteristiche, il nostro stile, i nostri talenti e da lì esprimere veramente ciò che siamo. E poi le cose che amiamo o che immaginiamo possono veramente realizzarsi. Quindi vi mando un abbraccio forte, fate il tifo e ci vediamo a Marotta. Ciao!